Ciao a tutti. Vado a parlare di quella che è una forma di accordo particolarmente importante e significativa sulla chitarra per chi anche e soprattutto come me suona da solo accompagnando la voce, ma insomma in generale. Perché dico questo? Perché per come è fatta la chitarra, quando dobbiamo riempire uno spazio in maniera importante abbiamo due elementi da tenere in considerazione, il basso e il resto dell'accordo. Ci può anche essere una melodia, però non complichiamo troppo le cose. C'è una forma di accordo che per come è fatto lo strumento, in accordatura standard ovviamente, merita secondo me di essere esplorata. Non voglio dire sia un accordo più importante di altri. Gli accordi sono importanti se li facciamo suonare importanti, se no, no. Ma avendo noi il basso, che suoniamo di solito col pollice, e prendo un basso qui per esempio, e il resto dell'accordo, diciamo in questo modo sfruttiamo tutta la profondità della chitarra, no? Ovviamente gli accordi non sono solo questi, per carità, non è che deve sembrare. Però mi interessa approfondire un pochino il concetto su questa forma di accordo. Allora, gli accordi possono essere a tre voci, sono i maggiori, i minori, la triede diminuita, quella eccedente. Poi si fanno un po' più interessanti, sopraggiunge come prima nota aggiuntiva la settima. Io qui faccio un discorso dando per scontato che poi chi ascolta abbia già nozioni di armonia, no? Insomma, si possono acquisire in molti modi. Gli accordi di settima generalmente sono formati, generalmente lo posso levare, sono formati da quattro note. Prima, terza, quinta e settima. Allora, andando un po' a ritroso nel modificare gli accordi, a ritroso perché? No, a ritroso, forse in avanti, non so perché l'ho detto. Allora, il primo accordo di settima che mi viene in mente è quello, il maggiore settima, major 7, come troviamo scritto sugli spartiti. Noi in Italia lo chiamiamo anche settima più. Mi trovo anche io a chiamarlo così, anche se non è proprio corretta come definizione. Questo accordo, suonato con tonica sulla sesta corda, può essere suonato con una forma molto bella in questo modo. Perché dico molto bella? È un po' pianistica. Basso, accordo. Le due cose separate, cioè il basso, in questo caso sto facendo un la, quindi è la, do, diesis, mi e sol diesis, il la maggiore settima. Ho il la qui, sulla sesta corda, poi ho la quinta corda che non viene suonata e altre tre corde dove ci sono le altre tre note. Quindi è un accordo assolutamente essenziale. Finito, chiuso, bello impacchettato. Ah, tra l'altro la settima interna all'accordo, che è molto bella. Le settime interne all'accordo hanno un bel suono, molto caldo. Adesso, perché parlo di questo accordo come di un accordo importante? Non è tanto questo accordo, ma è questa modalità di accordo. Cioè, se io sapendo che ho tonica, settima, terza e quinta, voglio trasformare questo accordo in un accordo di settima, semplicemente, settima dominante, quindi con la settima bemolle, non dovrò fare altro che bemollizzare la settima e ho ottenuto lo stesso identico accordo che invece del sol diesis ha il sol. Perché sono il la, ma insomma, altrimenti vale per tutti gli accordi. Perché la differenza fra un accordo di major seventh e un accordo di settima dominante è soltanto la settima che si sposta di mezzo tono. Siccome la differenza fra un accordo di settima e un accordo di minore settima è solo la terza che si sposta di mezzo tono, da questo accordo, sapendo che questa è la terza, se io la bemollizzo e vado a suonare questa forma, che mi permette di prendere comunque solo quelle quattro note, tonica, settima, terza e quinta. Prendo un barret con questo dito, poi aggiungo il secondo sopra e do un accordo minore settima. Questo accordo minore settima ha una sola differenza con l'accordo minore settima quinta bemolle, che è la quinta bemolle. La quinta che scende qua. Quindi, ecco che con la stessa identica forma, con lo stesso identico tipo di voicing, ho, che cos'è il voicing? Il voicing è la disposizione delle voci, no? In questo caso stiamo rispettando sempre la stessa, perché tonica settima, salendo, no? Nello spartito. Tonica settima, terza e quinta. Quindi, ricapitolando, maggiore settima, settima, minore settima, minore settima quinta bemolle. Se scendo con questa quinta bemolle e vado fino alla quarta, questo diventa un minore undicesima. Molto interessante anche come accordo. Allo stesso modo, riesco a allargarlo o modificarlo verso accordi alterati. Finora abbiamo parlato di accordi che fanno parte della tonalità. Il minore undicesima in realtà no. Cioè, sì, se estendiamo, ma insomma qui non sono più le quattro note. Fino al minore settima quinta bemolle, quindi maggiore settima, settima, minore settima, minore settima, quinta bemolle, le quattro note che formano l'accordo sono interamente rappresentate. Per altri accordi si sceglie di fare delle cose un po' diverse. Per esempio, se questo è una parte di minore, settima, tonica, settima e terza minore, se aggiungo la quarta diventa un minore undicesima, ma sono sempre nella tipologia di accordo da cui ero partito. Per esempio, se al maggiore settima aggiungiamo la sesta qui, togliendo la quinta, sacrificando la quinta, verrà fuori un tredicesima maggiore, un tredicesima settima più, tredicesima maggiore settima, perché ho tonica, settima maggiore, terza maggiore e tredicesima, quella che viene chiamata in questo caso tredicesima. Se la settima la bemollizzo e lo faccio diventare un settima, avrò lo stesso accordo ma tredicesima. Sugli accordi di settima si possono trovare delle alterazioni. Per esempio, se l'accordo di settima non ha la quinta giusta ma la vogliamo suonare bemolle o diesis, bemolle o più, in questo caso il mio la settima diventa un la settima quinta più. E se quella quinta la faccio diventare bemolle, diventa un la settima quinta bemolle. Ed è sempre la forma da cui sono partito, eh, attenzione. Il minore settima, provo a cambiare strada, vado sull'accordo minore adesso, se la settima la bemollizzo diventa la sesta, perché la settima era la settima bemolle, quindi se scende trova la sesta. Con la stessa forma questo è un minore sesta. Quindi sto trovando una quantità di accordi. Potrei trovare anche un diminuito in questo caso, ma insomma usciamo un po' dal seminato in questo caso, perché poi il diminuito risponde a delle regole sue, ma in realtà ho detto una cosa giusta, non è che ho detto una cosa sbagliata. Allora, se pensiamo che siamo partiti a un solo accordo, e perché sono partito da questo? Perché un'obiezione potrebbe essere parti da un accordo che ha la tonica sulla quinta corda. Sicuramente, questo è un re maggiore settima, questo è un re settima, questo è un re minore settima, sto sempre suonando una corda, poi ne lascio una e suono le tre più lontane, con le tre note dell'accordo. Il problema è che non tutti gli accordi sono facilmente suonabili, come ho fatto sull'altra posizione, ecco perché ho preferito parlare di quello. È ovvio che è un ragionamento che si può fare dovunque, dappertutto sulla chitarra, ma pochissime posizioni hanno una così grande varietà al loro interno. Cioè, si sposta un elemento avanti e indietro e cambia completamente l'accordo offrendoci ogni volta un accordo diverso. Ecco perché dico l'accordo più importante che abbiamo sulla chitarra, non so se è l'accordo più importante, sicuramente ci offre tantissime varianti. Probabilmente ne ho anche dimenticata qualcuna e ci sono ragionamenti che possiamo continuare a fare, ma era più che altro lanciare l'idea, il semino, per dire che ragionando sulle cose con pochissimi elementi se ne possono ottenere molti di più, perché poi la musica è fatta anche di questo. Sposto una cosa e cambia completamente il panorama che ho davanti. Spero di essere stato utile, alla prossima! Grazie a tutti!